Armi votive in Magna Grecia, siamo in compagnia del direttore Zug Triegel. Quali sono gli aspetti principali e rilevanti che vogliamo oggi far emergere dal dibattito? Un dibattito, un convegno che pone Pestum al centro della ricerca internazionale. Sono colleghi dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, da altri paesi ancora. La cosa importante è che legato a questa iniziativa che si pone sul livello internazionale della ricerca archeologica anche una mostra che si apre sabato e che spiega a tutti in maniera molto facile, comprensibile, con delle immagini, con degli oggetti, perché le armi è Atena, perché donare, perché troviamo delle armi nel santuario di Atena a Pestum e in molti altri luoghi, qual è il rapporto tra la Dea e il mondo della guerra. Questo nella mostra, spero che troverete il tempo per visitarla. Rettore, oggi un convegno dal titolo Armi Votive in Magna Grecia. Cosa vogliamo mettere in luce? Bene, sono tre giorni molto intensi. Due li faremo da noi a Fisciano, a partire dal nostro Aula Magna e poi due giorni intensi con relatori provenienti da molti paesi europei. Il terzo giorno invece si inaugurerà la mostra a Pestum. Questo tipo di iniziativa e questa conferenza stampa di oggi vuole significare le tante cose che stiamo facendo con il museo di Pestum e anche con le altre realtà presenti in Campania, perché noi abbiamo tra l'altro questa naturale felice posizione tra le due costiere, ma anche la felice posizione tra i due parchi archeologici più importanti al mondo, quello di Pompei e quello di Pestum. Noi crediamo fermamente che nell'Ateneo ci siano tutte le competenze per dare un sostegno a chi, come il direttore Zutrich, sta facendo un grandissimo lavoro per portare avanti nel mondo il nome del parco archeologico di Pestum. Nella nostra università, perché c'è certamente gli archeologi, l'archeologia da noi è un'eccellenza, tante iniziative viste in campo al Dipartimento di Scienze e Pestum, lo confermano. Però ci sono anche altre competenze che servono, gli aspetti più squisitamente economici, quelli ancora umanistico, di sostegno, quelli collegati agli aspetti ingegneristici, di difesa del territorio. Insomma, ci sono tutte le competenze per poter supportare questo processo di crescita. L'Italia è un paese, ben detto da Dio, anche in questo. Noi abbiamo, la nostra grande maggioranza è il patrimonio UNESCO, dei siti riconosciuti all'UNESCO al mondo e in Italia. E quindi, io dico sempre, piuttosto che andarsi a inventare soluzioni, credo che bisogna valorizzare le tante cose straordinarie presenti sul nostro territorio. Solo così si crea uno sviluppo che non è uno sviluppo effimero, ma è uno sviluppo importante, uno sviluppo sui contenuti basato sulla cultura. E credo che in questo senso l'apertura dell'università al territorio sia un tratto distintivo del nostro Ateneo.